Campioni d'Italia e non domani torna il Milan. Domani tornano i Campioni d'Italia per la prima volta a San Siro con lo scudetto sul petto contro l'Udinese per la prima partita di questo campionato. Ragazzi, io non voglio smorzare i vostri entusiasmi, però questo sarà il campionato che a parer mio vedrà il Milan partire dalle retrovie, me l'hanno garantito sui social, mi hanno detto tutti che questa Juve con tutti questi acquisti che ha fatto è diventato uno squadrone infermabile, l'Inter era più forte già l'anno scorso, figuriamoci quest'anno, quindi l'Inter va sopra, la Roma di Bala o Wijnaldum, la Roma figurati, la Roma figurati, passa avanti anche lei, la fortuna è che il Napoli non ha fatto tanto mercato, quindi il quarto posto ancora ce lo danno, quindi grazie, grazie veramente per la fiducia, secondo me un po' troppo, vi state allargando un po' troppo dando sto quarto posto al Milan, però vi ringraziamo, noi tifosi vi ringraziamo, quindi ragazzi se volete iniziare a godervi la prima tappa di questa corsa al quarto posto, live reaction su Twitch, domani alle 18.15 sarò in diretta su Twitch per la live reaction di Milan Udinese, trovate il link nella descrizione di questo video, quindi domani 18.15 live reaction, Milan Udinese su Twitch, ci saranno tutti, ci saranno tutti gli ospiti, amici saremo un bel gruppetto, non mancate, ma adesso, adesso passiamo all'argomento del giorno, il rinnovo di Ficaio Tomori, grazie, grazie Fic, grazie Fic, grazie Fic, ti voglio tanto, tanto bene. Questo rinnovo è una notizia meravigliosa, è una notizia meravigliosa, pazzesca, che arriva, secondo me, al momento giusto, perché questa settimana ho visto un po' di, ho visto un po' troppo pessimismo sui social, io sono stato molto poco attivo, devo dire, la verità non ho pubblicato quasi niente, se non i contenuti per gli abbonati, ma sono comunque stato presente sui social, ho percepito un po' tutto questo pessimismo che si respirava un po' per l'infortunio di Tonali, che all'inizio non si sapeva che cosa fosse, un po' il mercato che non si sblocca perché il difensore non arriva, il centrocampista non arriva, e quindi i tifosi sono tutti un po' lì a diemo che facciamo e quando spendiamo, quando diciamo, quando facciamo. Insomma, eravamo arrivati a questo Milano di mese tutti con un po' di scazzo, mettiamola così. Questo rinnovo, secondo me, fa spuntare di nuovo il sereno, anche proprio dal punto di vista del tifo social, ecco, mettiamola così. Ma di là del tifo social, questa insomma è una nota di colore che faccio io, la notizia è grandiosa, ovviamente, per l'aspetto tecnico. rinnova un top della Rosa, rinnova il miglior difensore centrale del campionato italiano, probabilmente, dopo Skriniar. Io Tomori lo metto secondo solo a Skriniar, nella mia personale classifica, e non lo metto neanche sotto Bremer, perché io su Bremer mi sono sempre espresso in maniera molto chiara. Lo voglio vedere alla Juve, sinceramente. Non sono così sicuro che sia superiore a Tomori, nonostante tutti siano convinti di questo, però, vabbè, quella è una mia idea. Insomma, il fatto sta che rinnova un top, un top in Serie A, un difensore importante che si sta imponendo anche a livello europeo, perché nell'Inghilterra ha iniziato a giocare anche lui con più continuità, è seriamente uno dei candidati per andare ai mondiali in Qatar, potrebbe anche partire da titolare nell'Inghilterra, perché, insomma, Maguire è quello che è, il fatto che Tomori gli faccia panchina mi fa ancora abbastanza ridere, però, insomma, questo è. C'erano tutti, insomma, gli elementi apparecchiati per descrivere un giocatore in ascesa, un giocatore evidentemente in ascesa. E un giocatore giovane, importante, evidentemente in ascesa, ha preferito sposare il nostro progetto piuttosto che andarsene altrove, piuttosto che mettersi contro la società per fare quello che hanno fatto altri. E al di là dell'aspetto tecnico, che come ho detto è assolutamente indiscutibile, la cosa che fa più piacere è proprio il fatto che un giocatore di questo tipo abbia sposato con così tanto entusiasmo il nostro progetto. segno che quando qualcosa funziona e quando un giocatore riconosce, effettivamente, e quando un giocatore è intelligente, il matrimonio si fa in maniera abbastanza facile. perché, parliamoci chiaro, Tomori è cresciuto nel Chelsea, ha già vissuto un top club da dentro, ha giocato poco e è arrivato al Milan, si è consacrato, si è innamorato della maglia del Milan, perché, insomma, anche a livello social io riconosco i giocatori che fanno il post con scritto Forza Milan perché lo devono fare e quelli che lo fanno perché ci credono. Tomori è uno di quelli che ci crede e che fin da subito praticamente si è calato molto bene nella parte del, insomma, nell'ambiente Milan. rinnova importante per tutti questi fattori, insomma, ed è davvero bello che sia arrivato prima dell'inizio del campionato ed è davvero bello perché, insomma, fa capire che Tomori vede una carriera importante per lui all'interno del Milan, quindi è convinto che il Milan possa raggiungere grandi obiettivi. Per quest'anno, ovviamente, come ho detto all'inizio, dovrà accontentarsi del quarto posto, però, sti canzi, c'è nel senso, ovviamente, ci sarà il futuro. Ma, bando alle ciance, adesso speriamo che arrivi qualche rinnovo in più. Abbiamo blindato Teo, abbiamo blindato Tomori, insomma, due pilastri per il futuro molto importanti li abbiamo messi. Adesso mi auguro che arrivino anche gli altri rinnovi messi in cantiere, e ce ne sono veramente tanti. C'è quello di Calulu, quello di Tonali, quello di Leao, che ovviamente è quello che fa dormire un po' tutti in maniera agitata, però, è dire, si sta lavorando e un passo alla volta speriamo di riuscire a mettere i tasselli giusti. Ma, ovviamente, questi saranno argomenti che speriamo di affrontare nei prossimi video. Detto questo, io vi do l'appuntamento a domani, ragazzi. Vi auguro una buona notte, una buona vigilia di Milan Udinese. E, che dire, domani, di nuovo, 18.15, la vi reaction su Twitch di Milan Udinese. Un salutone, sempre Forza Milan, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.